Ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video io sono Anna e oggi siamo di nuovo su un video di COD sempre assieme a Gianni come vedete in questo video purtroppo faccio meno video ma per il semplice fatto che sono in sessione e finché non la finisco purtroppo sarà così poiché ho poco tempo per fare i video e anche per quanto riguarda le live potrei a caso farle come è già successo e ovviamente metterò tutto sempre sulla community quindi rimanete attivi attivate la campanellina e tutto ricordatevi di seguirmi su instagram seguirmi anche su twitch mi raccomando e niente da Anna è tutto buona visione ciao a tutti ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video io sono Anna e oggi siamo in un nuovo video su COD con ovviamente Gianni parte il fatto che io faccio sempre la intro su COD ma poi alla fine la faccio di nuovo col vlog poi prossimamente volevo fare anche i video su Jogesser sempre con lui se si riuscirà ovviamente perché è sempre una questione di riuscirci con lui perché è come fare l'appuntamento programmare un appuntamento vabbè a parte questi discorsi un po' così oggi volevo iniziare direttamente partendo da un abatto royal che ho visto che c'è una bellissima modalità che mi piace molto cioè questa e che a Gianni piacerà molto e se faccio già partire senza che li guardi così ecco qui siamo entrati perché sono invisibile oh mio dio sono un palo sono un palo io tu cosa sei io sono un palo ma che cazzo ai fatti non capivo io sono una staccionata io sono un palo oddio ma questo ma questo è un camion ma c'è uno che è un camion ma sicuramente è meglio essere un camion che un palo cioè io posso andare a essere un palo dove mi infilo ah no ok adesso sono una macchina ora sono una macchina no che bello posso posso dire sono una palla io sono non mi vedo io dove sei sono un ucciso io sono io sono un auto che adesso mi metterò ferma da qualche parte adesso voglio vedere questi pulsanti ah ecco così mi blocco ok così posso muovermi comunque e io sono un auto c'è uno che è un albero sono un sacco di una maldezza ma che cavolo sono ma sono questo è un pupazzo di un pupazzo di paia ma che cavolo hai preso trasformazione ora posso trasformarmi tu cosa che sai adesso c'è un cestino un cestino c'è un cestino sono diventato un muro beh voglio intero una lampada no 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 sono morto ma che cosa sono un bidone sono una statua di una puttana io sono un bidone forse vedo qualcosa sei tu c'è qualcuno vicino mi sa che sei tu quello no ecco ecco si eri tu no vedevo una cosa luminosa sono una fermata del bus no mi hanno già visto no mi hanno visto perché sono più basso del solito ok sono invisibile non mi vede ora mi devo nascondere una tannica di benzina sono tu cos'è che sei adesso morto dai a fame sono un bidone sono un bidone oh c'è qualcuno davanti a me che non mi vede ok speriamo che non si renda conto che questo bidone non c'era prima no ho fatto un urlo talmente forte e acuto che ho sentito rimbomba sono un coso cosa è sta roba oh sei tu aspetta fermati 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 aspetta ecco bloccati 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 no ti devi bloccare bloccati facciamo una costruzione dai bloccati ti sto inseguendo questo è l'inseguimento Oh andiamo insieme così facciamo tipo una cosa sia nel movimento Sono un tavolo Oh ecco ti Non mi fa ridere Stai zitto Capito stai zitto Mi fa ridere che mi sei passato davanti con sto albero Io sono in tavolo mi vedi Girati Facciamo il tavolino sotto l'albero così così Fermati Ma perché sono sempre una roba schifosa Che è sta roba Gli hanno vinto Ho vinto Sì anch'io Non so perché ma Perché fa sto rumore Ma un tizio Ma what What è inquietante questo Questo è tipo un manichino Inquietante Sembra un manichino questo tizio Inquietante Giro giro tondo Casca il mondo Casca la terra E tutti giù per terra Giro giro tondo Casca il mondo Casca la terra E tutti giù per terra Allora adesso mi voglio mettere da qualche parte In questa cucina Qui potrei tranquillamente essere vero Guarda salto Dai Allora non ti vedo No ti vedo No ti vedo Porco Dio mi ha spawnato una a fianco e ho preso un impatto Grazie amo Ma che cosa Ecco stavaggando Ora conosci Ma cazzo Io non esisto Ciao mi chiamo Ballinini Sono un nanatron No Non ho capito cosa è successo Che cosa ho schiacciato Adesso vedete sta cosa Io salgo Ah così Forse perché così posso vedere Effettivamente Ora me ne vado Addio Ciao Una barca Allora una barca in casa Penso che non sia molto veritiera Sono sotto l'acqua Dai aiutami Io sono nascosta Io ti dico solo questo Sono sotto l'acqua Quindi non è che c'è molta scelta Vieni nell'acqua Sei tu Dove è sta Una barca in lini Oh cazzo Che cosa Che sparro Quando esce dall'acqua Io dove cazzo Ma che cazzo Ma perché Ma perché Che cazzo Che cazzo Grave di Cosa Jones Lì Che c'era là Vinto Eccoci qui Piccolo disclaimer Questo video Lo stiamo facendo Praticamente un mese dopo Il pezzo prima Perché Gianni Non c'è mai Hanno messo Dei nuovi Dei nuove modalità Tra cui Queste due Queste due Cerca il soccorri Che cazzo devo fare Non lo so Sinceramente L'ONU Emergency Porco di Anna Baldini Non lo so sinceramente Ah aspetta Forse è la bomba Cerca il soccorri La bomba Eh no Eh sì La bomba Non faccio Io metto la copertina Eh no È modalità bomba Perché vedi che C'è la bomba C'è il simbolo della bomba E ci sono anche cose Che quando muori Cioè ti uccidono E muori E praticamente Devi giocare La volta dopo Nella partita dopo Andiamo a difendere Noi od Adesso Oh porco dio Oh mio dio Che è successo Mi anima Mi stai animando Grazie Grazie tizio Mi hai animato Grazie Ah quindi c'è anche Ah ma abbiamo vinto Bene sono animata E abbiamo vinto Ottimo C'è una palla In mezzo all'acqua Una boha Cos'è una boha È una boha forse Non lo so È bomba piazzata Non so dove sia la bomba Dove l'han piazzata Scusa qui No non l'han piazzata qui Dove l'ha piazzata la bomba Ah là E non l'avevo visto Eccolo Oh perfetto Morto Abbiamo vinto No andiamo a disnescare Vero vero Dieni si innesca Ce la perdiamo Ok Oh mio dio 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 Oh stavo uccidendo tutti e tre Ho ucciso tre persone di fila Così Ok Chi è che c'è la bomba Che c'è la bomba Il c***o Ottimo Ma che c***o Ma che c***o si è duplicato Ma che c***o Tipo Tipo lag Ecco Quindi ho vinto Sono prima Ottimo Attacco notturno È la È la È la È la Modalità preferita di Gianni Pure di notte Pensa un po' Ma scomma Si è messo da solo La visione notturno Dovresti vedere È tutto È tutto verde Tutto verde acqua Siamo sotto l'acqua Sei check La Hulk La Hulk È parso il primo Non morto È parso il primo Non morto Che lo vedo già Ecco Lo già uccise Oh mio dio Non vedo più niente Aiuto Non vedo la strada Ok Sì ma guarda che La puoi mettere da sola La visione notturno In totte Oddio Esploso È letteralmente esploso No di nuovo Non vedo più niente Mi sono perso Dove sono è finita Dai Ho ucciso Non vedo niente Ok Stiamo nella scala Ok Ma tu non vedi Ma niente No Mi hanno ucciso Chi manca Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ottimo Abbiamo vinto Uccidiamo tutti Via Tutti Morite Morite Ok Oh Sono fortissima Oh Sono fortissima Non è vero Sono morta Vabbè comunque È andata bene Fino a che Doveva andare bene Guarda quante persone ci sono C'è qualcuno Dito di me Oh no Dov'è che è Chi è che mi colpisce Ma poi li sono sbucati da nulla Oh no c'è una bomba C'è una bomba Ecco Sono sposa Oh mio dio Mio dio Mio dio Mio dio C'è uno col fuoco Madonna Mi ha incendiato Ma che cazzo Ce l'ho per poco Stiamo perdendo Amaramente Per colpa tua Colpa tua Si stiamo perdendo Cazzo Voglio Ok Sto facendo un sacco di kill Però Madonna Andiamo a prendere Sti cosi Andiamo a prendersi Ecco Abbiamo perso Ok No Mi locca Mi locca Uffa Non ce la faccio A prendere sta meta Oh mio dio Siamo esplosi tutti Oddio Ma che cavolo Cosa ho appena visto Ti prego Ti prego Ti prego Vai cane Vai a uccidere tutti Vai Gianni ovviamente Io ho fatto 62 Ah io Veramente ho fatto 62 kill Madonna Baldinini 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 Stiamo già perdendo Pensa Baldinini Guarda che sono le persone Ci sono tutti dentro lì A prendere Mi è arrivata una scarpa Sai che hai detto? Ho capito Mi è arrivata una scarpa Io sono da sola Nella Nella loro Nella loro sede Diciamo Ottimo Catturato Catturato Cioè solo tanto io sto catturando le robe Comunque Ne faccia nessuno Oh mio dio Quanta gente Ok ci sono Aiuto Comunque la mia arma è troppo forte Ok Facciamo anche il cane Vai cane Adesso lancerò questo Questo cos'è? Ah Oh mio dio Io non lo so usare questa cosa Ok Oh Oh Abbiamo vinto Oh Quindi io quello non mi ha visto Vieni qua Dove sei Oh Stai fermo Mettiamo No Mettiamolo qui Vai Uccidi tutti Vai uccidi tutti Uccidi tutti vai Sei La gente non mi vede Scusa Adesso un queen Ferma Non ce ne mi colpisce Mi ha vinto Sì Questa facciamo Dai L'ultima partita E poi basta Non c'è nessuno in questa mappa Dove sono tutti Dai Siamo Lego Duclo Cioè Non ci credo Cioè stavo per cedere uno Ho lasciato Io ho lasciato uno di vita E me l'ho ucciso un altro Mi ha fatto l'assist Frigognati Ti stava Ti stava seguendo uno L'ho ucciso Ti ho difeso Oh no c'è uno Ecco c'è Gianni Che mi ruba le kill ovviamente Perché Mi fa assist Ti devi vergognare Assist ancora Gianni Oh no Ok Oh finalmente Qua Vai Ciao tizio muori Perfetto Vai cane No Dai Ho ucciso il cane prima Mi ha ucciso me E quindi Ho ucciso ovviamente Anche il cane Quindi non ha fatto nulla Vai cane Vai uccidere qualcuno Confido in te Mio dio Quante persone Ovviamente Chi è che c'è qua? Gianni Dai che stiamo vincendo Manca un tre kill Dai ma non possiamo essere superati così All'ultimo eh Ok 48 40 Manca Oh ti giuro che se perdiamo per uno Io ti giuro che guarda Ok mi ha vinto No perché veramente Sennò Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate like Commentate Condividete Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto E Danne Con Gianni che fa versi strani È tutto E Danne è tutto Ciao a tutti Gianni saluti Oh mio dio